Bene, siamo con Delphine Chemlard, Ville-sur-Ars, Chesnay d'Ars, quindi questa volta siamo nel sud del Champagne. Esattamente, siamo nella Côte des Bars, siamo qui in basso, vicino alla zona famosa dei Risset e vicino alla Borgogna. Vicino alla Borgogna, Chesnay d'Ars, una cooperativa, anzi una maison de vigneron. Ci spieghi un attimo che cosa significa maison de vigneron, è un'associazione di tutti i vignoioli che fanno parte di questa cooperativa. Sono 132 famiglie su più di 325 ettari, non compran niente al di fuori delle proprie terre e delle proprie uve. Sono molto completi, hanno una gamma splendida e ci danno grande soddisfazione in Italia. E' uno Champagne che non è distribuito nei supermercati, solo nel settore orecca lo troviamo. Uno Champagne di nicchia, una gamma ampia e direi anche un 2018 che ci sta portando a delle grandi soddisfazioni. Assolutamente. Perché mi diceva che anche a Vinitaly avete avuto questo grande riconoscimento. Assolutamente, a Vinitaly la nostra cuvée Vantage 2008, che è una 60% Pinot Nero 40 Chardonnay, ha ottenuto il primo premio al concorso internazionale dei Five Star Wine, quindi siamo molto contenti. L'anno scorso avevamo avuto anche le denominazioni Five Star Wine su altre cuvée della maison, ed è una maison che ci dà soddisfazione di continuo. Ovunque la presentiamo riscuote grande successo, perché è uno Champagne molto facile, però rimane elegante e fine.